Siamo in Villa Comunale con Alessia Scarso. Alessia è venuta qui ad Ariano a presentare durante il festival il suo lungometraggio Italo. Alessia, parlaci un po' insomma del lungometraggio. Allora, questo lungometraggio nasce innanzitutto appunto dal fatto che comunque io quando ero piccola mi sono innamorata del mezzo cinematografico e allora ho deciso che avrei assolutamente voluto nella mia vita occuparmi di questo, di questa relazione che c'era tra questi spettatori che improvvisamente a 12 anni avevo visto dentro una sala buia e una storia che viene raccontata sullo schermo. Un giorno comincio a leggere delle gesta di un cane randaggio che era a Scigli e mi incuriosisce molto questa storia. Scendo in Sicilia, conosco questo cane e mi innamoro follemente di questa storia e capisco che un cane era riuscito a insegnare all'uomo a tornare umano. Perché lui era un cane specialissimo, ha cambiato diciamo tutto un paese. Perché era così speciale Italo? Perché la mattina accompagnava le signore a messa e si vedeva la messa con loro. Poi andava ad accompagnare i bambini a scuola, poi andava a prendere la fermata dei turisti. I turisti li accompagnava in giro per la città perché ricordiamocelo Scigli, Modica siamo patrimonio dell'UNESCO per il Tardo Barocco. Non c'era un evento, una festa popolare, un momento di aggregazione dei cittadini dove lui non fosse non solamente presente ma anche protagonista. Lui era a Prifila, partecipava ai matrimoni, partecipava ai funerali. Un cane che aveva un addetto stampa che parlava di lui e che ha una storia del genere non potevamo che farlo diventare, cioè la sceneggiatura era già pronta. Era già un eroe. Poi abbiamo in qualche modo romanzato un po' tutta la storia costruendo intorno alla storia del cane una serie di romanzando dei fatti con dei bambini, con un gruppo di adulti, diciamo che è una storia anche un po' corale, ci sono diversi elementi. Tutto però ruota intorno a Italo e tutto ruota intorno al fatto che tutto ciò che fanno di fiction, diciamo tutti gli altri personaggi è fatto, è costruito in modo che lui compia nel film le azioni che lui realmente nella vita aveva compiuto. Questa insomma è la storia del film. Poi la storia diciamo di come abbiamo fatto un film si potrebbe dire un'altra parentesi perché si tratta di un'opera prima, di un'opera prima di produzione, un'opera prima di regia, un'opera prima di tante cose dove abbiamo imparato tantissimo, bellissima esperienza, la maggior parte donne, direttore della fotografia donna, produttrice donna, sceneggiatrice donna, montatrice donna, regista donna, scenografa donna, costumista donna, truccatrice donna, insomma tantissime donne, un film rosa, ma non perché l'abbiamo voluto, ma perché è stato particolare, sì il gruppo iniziale eravamo tutte donne, alla fine cercando le figure di cui avevamo bisogno si è venuta a creare questa dimensione tutta il femminile e tutta donna e credo che questa cosa, questo elemento sia un elemento di forza nella capacità poi di leggere il film e di raccontare una storia così bella. Ti faccio solo un'altra domanda, come sei venuta a conoscenza dell'Ariano International Film Festival e che tipo di accoglienza hai ricevuto? L'Ariano Film Festival l'ho conosciuto attraverso il web, che ormai è universale, attraverso il web noi ormai facciamo tutto, ho avuto esperienze io di festival nazionali e internazionali e grazie al web ormai si arriva ovunque, anche in formato come si dice ormai paperless green, perché ormai si mandano i link, si può far vedere appunto il film a diverse commissioni selezionatrici e sono contenta di essere qua perché siamo in un momento di caldo afusissimo e qui si sta la giacchetta, stamattina non riuscivo a stare ne manco con la canottiera, c'ho bisogno della giacchetta, è un posto bellissimo, non c'ero mai stata ed è un'occasione appunto per visitare un posto che non conoscevo. Fai solo un attimo un saluto a noi dell'IFTV. IFTV, ciao a tutti!